Quanto credi che è stato bello FIFA 16 quest'anno, eh? Vediamolo. E sarà a calcio di rigore. Non si passa a prendere. Attenzione, ecco il gol! Il gol ha disegnato, ma l'arbitro ha già fermato l'azione per la segnalazione dell'assistente. Il gol si attraversa, non è finita! Cerca la porta! Grande intervento del portiere. Palla che finisce in corner. Trostequilibrata. Classico 4-4-2. Ha calzato dalla lunga distanza, mancando di molto il versato. Dei suoi compagni sono un po' sc... Un gol! Sandrui! Una grandissima parata questa! Oddio, è uno di quei casi in cui la tecnologia è verità. Dei un gol, si splocca il risultato. Morgan, grande intervento del portiere. Gran tiro. Conclusione violenta, ma... Attenzione, c'è l'intervento di pugno. Ryan, la mette dentro e adesso è tutto in parità. Prova? Non si fa sattento. Un gol pesantissimo. Non taglia! È fatta! Regala la vittoria alla tua squadra. Vintag, palla che carambola sul corpo del portiere. Finisce in rete. Da questo rigore può arrivare la vittoria. Palla che colpisce la travenza e torna in campo. Grattino? Una grandissima parata questa! Morgan! Pericolo, ecco il tiro! Ed entra in rete! Gol! Red! Che sta! Il portiere dice di no! Gol fondamentale! Cappia tutto! Battuta! Balla sul muro! Gara! Questo è il gol che vale la parità! Sparo gialla! Gioco, attenzione! Difersore, pure! Questo tiro! C'è una gioia! Grande parata! Grande passiva traversa! Questa è il campo! Parte il tiro! Ed è gol! Red! La mette dentro! Questa è la volta! Grande parata questa! Ancora! Non si fa sottendere! Momento decisivo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E c'è la traversa! Grazie a tutti!